Benvenuti in questo nuovo video da Vita in Città, a questo oggi faremo un sacco di soldi, trolla la! Lo spero, Steph! E questa è la nuova versione della nostra bellissima... E ti spacco la TV! Fede, eh? Così. Fede, la TV è di entrambi, e ce l'ha regalata a Mark, tra l'altro, l'ho scoperto qui alla fine. Me l'immaginavo, me l'immaginavo fosse stato lui. Per favore, iniziamo a uscire di casa, perché io davvero non sopporto questi gatti. Chiudo io! Non lo devi dire, però! Né chiudo io, né che non sopporti i gatti. No, allora, gatti, siete bellissimi, ma ogni volta mi disturbate durante l'intro e mi arrabbio un pochino. Ho capito che avete fame, ma la vostra fame è perenne. Siete bellissimi, ma non su Minecraft. Anche, anche questa è una bella cosa, vai, chiudi la porta così, sei contenta, mannaggia te. Allora, devi sapere che... Hai visto tutta la gente che era arrivata in città a fare la scorsa volta? Sì, era un po' più popolata, esatto. Esatto, a quanto pare la nostra bancarella ha fatto faville, nel senso che ha conquistato un sacco di gente. Io ho già riposizionato tutti gli oggetti in vendita, in realtà non ho messo tutto, tutto, ma ho messo tantissima roba per attirare clienti di vari tipi. Ed è pieno zeppo di clienti alla nostra bancarella che aspettano. E allora andiamo, Steph, cosa stiamo aspettando? Cosa li facciamo? Attendere, per una volta che qualcuno ci calcola, scusami. Oggi diventiamo ricchi, eh. Ricchi non lo so, però magari un po' meno poveri. Ci compriamo una pols, Fere. Un po' meno poveri, secondo me. Guarda quanta gente c'è, Fere. È la cosa corretta da dire. Guarda quanta gente. Tre, Steph. Fere. M'è parlato come se ci fosse quasi un rave party alla nostra bancarella. Tre persone. Fere, sembra quasi una discoteca da quanti siamo, eh. Per niente. No, no, no. Però comunque non ci si lamenta. Da zero a tre è una miglioria. Quindi va bene. Esatto, esatto. Tra l'altro io ti farò notare un'altra cosa interessante. Sì. Arturo è tornato. È tornato Arturo che aveva già comprato nella nostra bancarella. Vuol dire che comunque stiamo iniziando anche a farci un nome. Perché lui ha pensato, cavolo, qua ci sono proprio dei belli oggetti. Torno a vedere se c'è qualcos'altro di interessante. Esatto, è normale che se ti trovi bene in un posto poi ci torni, no? Eh sì, eh sì. Però quindi vuol dire che stiamo lavorando bene. Comunque, allora, io partirei da Luca. Ok, vai. Vediamo un pochino. Ciao Luca, cosa vorresti? Allora, Fere, devo dire che per l'aspetto che hanno mi aspetterei mai che è interessato a questi oggetti. Perché vorrebbe... Cosa te ne frega? Scusa, stai giudicando i clienti? No, no. Ma Stef è proprio una persona che giudica gli altri. Io non lo so se voglio continuare a fare questa serie insieme a te. Che noiozza che sei. Allora, il pettine lo vorrebbe per 50. Quanto l'avevamo comprato alla fine quel pettine, Fere? Stef, perché non ti insegni le cose? Comunque ha molto poco. Meno di 50. Ok. Allora, signor Luca, il pettine... Faccio io? Lo vendiamo di sicuro, no? L'ho già venduto. Vabbè, vabbè. Volevo servire i clienti. Vedi il mappamondo, dai. Allora, dov'è il mappamondo? Vabbè, non posso salire sul tavolo, Stef. Cosa mi fai fare da questa parte? Ecco, fatto. Il mappamondo. A quanto lo stiamo vendendo? Eccoci qui. 30, andava bene? Boh, sì. Secondo me il mappamondo non è che lo puoi vendere a chissà quanto. Secondo me ci sta, dai. Ho visto che invece è molto interessato al nostro pendolo, che non riesco a togliere, Fere. Ecco, cos'è? Fatto di marmo, è fatto... È bello resistente, però, eh. Sì, è positivo. Ottimo, Stef. È veramente resistente. No, più che altro 200 per questo. Sono veramente contento, Fere. 200 non è male come vendere. No, infatti. Forse la cosa che abbiamo venduto ha di più, fino ad ora. Ha di più. Ha di più. Ha di più. Ha di più, ok? Va bene. Ha di più. Va bene. Poi, vediamo un pochino. Sara cosa vorrebbe? Allora, Sara è intenzionata a comprare giocattoli. Però, Fere, mi sembrano dei prezzi bassini. Prova a parlarci anche tu. Vediamo. Perché la casetta, comunque, di bambola a 20, a me sembra veramente poco. Però il trenino a 50 mi sembra ottimo. Allora, il trenino a 50 mi sembra buono e glielo vendiamo. E c'è da dire, Stef, che questa è una casetta di bambole molto in miniatura. Cioè, quelle costose sono quelle un po' più grandi. Questa è davvero microscopica, Stef. Secondo me, però, diciamo... Sì, è un po' bruttina, eh. Dai, vendiamogliela. No, è carina, però è molto piccola. È la bambola, però, a 10, questa bambola qui. Che dici? Questa io non gliela venderei. Secondo me la possiamo piazzare a 20. Forse anche la casa di bambole, secondo me, almeno 40 e la bambola almeno a 20. Vendiamo solo il trenino? Sì. Ok, va bene. Il trenino mi sembra un ottimo affare. Allora, Sara, le vendiamo soltanto il trenino. Per tutto il resto, senza essere successo, deve vendere di più. Ebbè, ovviamente, Stef, si deve incartare anche quando lavora. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai a buttartene la fontana, vai. Esatto, ho bisogno di un più di energia del po', perché qua, altrimenti... Stef, cos'hai oggi che se parlaremmo del solito? Non lo so. Quanto è successo? È successo qualcosa di brutto, evidentemente. È successo qualcosa di brutto. Però le energie del poferi mi renderanno potente. Lo spero, e ti renderanno anche una persona che sa parlare l'italiano, finalmente. Quello. Era proprio quello l'obiettivo. Dammi ancora 30 secondi, perché c'è caldo, capito? C'è troppo caldo. Eh, non capisci più nulla, no, perché d'inverno poi tu parli sempre perfetto, vero? Sì. È solo caldo. D'inverno sembro Eminem quando parlo. Vabbè, lo sanno tutti. Allora... Li scioglilingue e li hai inventati tu. Che rompiscate. Aspetta che ho lasciato i soldi per terra. Ok. Sei un venditore terribile. Arturo, ci penso io. No, no, Arturo è il mio preferito. Cosa vuole? È bello, vuole la macchina da cucire. Sembra sempre interessato quindi a oggetti molto antichi. Ok, Arturo. Te l'ho detto, Arturo è un collezionista. No, va bene, ma la macchina non mi sembra così antica, Fere. Eh, però no, aspetta. Adesso ci sono quelle elettriche, Steph. Questa sembra una novella. Magari... Quindi sì che è vecchia. No, ma quella è solo perché non è so usare. Magari vuole preparare tipo un maglioncino per i nipoti e quindi è interessato. A me sembra molto vecchia. Te lo dico io, Steph. Ormai sono elettriche. Comunque il prezzo non mi sembra male, no? No, neanche secondo me. Allora, non ho fatto il calcolo, però 20 per 5 fa 100, quindi 140. Non è male, eh? No, infatti, infatti, infatti. Non è male. Allora, io sinceramente gliela vendo. Abbiamo fatto, Fere, 200 dal pendolo. Ok, 50 dal trenino e siamo a 250. Più 140, siamo a 390. Ok. E non mi ricordo che altro abbiamo venduto. Abbiamo venduto, non lo so, a Luca. Avevamo venduto il mappamondo per 30. Il mappamondo, il pettine. 470 abbiamo fatto oggi. Bello. Dai, siamo ricchi. Molto meglio della volta scorsa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io voglio controllare, però, una cosa che mi sono dimenticato all'inizio. Andrea, se ne è dato? Non credo, Steph. Guarda, lo vedo già da qua. No, io non mi avvicino. Lo vedo già da lontano. No, rischiamo solo che ci riconosca, Steph. No, 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 no. Sei matto. Vieni com'è, vieni com'è. Dove vuoi andare? Eh, quest'oggi mi faccio valere, Fere. Ora che abbiamo i soldi, abbiamo anche il potere. Dove sei finita? Sta arrivando. Ma dove sei finita? Dov'era la strada? Ma non mi sono persa. Oggi che abbiamo i soldi, Fere ci facciamo valere. Quindi ora io vado dal sindaco, mi lamento, e faccio sbattere fuori dalla città, Andrea. Altrimenti, Steph. Questo è esattamente il gattino che vorrebbe fare nella vita reale. Esatto, vedi, il destino. Il terzo gattino, dico. Aspetta, aspetta. Aspetta. No, penso di averlo lasciato in casa. Ce l'ho nello zanetto, il medaglione. Provate a darle un po' di pesce. Se mangia vuol dire che comunque... Vieni. No, mi sa che deve farti a suo destro, sui gattini. Non rompere! Sei un po' scarsa. No? Non ha fame? Non lo vuole. Ok. Non lo vuole. Allora niente, gatto rimani qua, però sei molto molto carino. Piuttosto... Tornerò a prenderlo. Signor sindaco, allora. Ok. Parliamo chiaro perché è giusto così. Parlaci tu, Steph. Parlaci tu. Ormai noi siamo quelli ricchi della città. Una città di poveracci questa. Abbiamo fatto 500 in un giorno. Siamo ricchi, eh. Abbiamo un potere incredibile. Abbiamo una lamentela da fare. Spione guardone schifoso infame, di nome Andrea, che ha rubato prima di tutto la mia casa blu che prima o prima mi hai comprato, ha sembra un'auto blu. E seconda cosa, ci sta spiando con un cannocchiale tutto il tempo, perché pensa che siamo quelli che realmente siamo. No, Steph! Vieni qui, vieni qui. Lui lo sa. Dovevi dirgli che è un maniaco guardone? Eh, basta! Ormai è troppo tardi. Non lo sa lui la storia della vecchia città. Non c'è da un sacco di tempo, eri tu il sindaco. Aspetta, aspetta. Allora, si dimentichi la parte finale, ok? Non sai mai parlare con la gente. Guardone, schifoso, infamone, da cacciar via dalla città perché è brutto. Allora, Steph, spostati, spostati, per favore. È illegale spiare i propri vicini. Illegare, ho detto. Illegale! Spera, vai un po' nel po' anche tu, ah. Spiare i propri vicini. Quindi, io ovviamente, noi siamo persone che siamo venuti qua, abbiamo comprato una casetta, vogliamo vivere tranquillamente, non vogliamo essere spiati. Assolutamente. Quindi bisogna mandar via con lo stalker. Assolutamente. Chiunque so sia perché noi non sappiamo chi sia, non sappiamo perché si stia comportando in questo modo. Mi sa che la mia parte l'ha sentita, Fere. Cosa sta succedendo? Basta, me ne vado. Andrea si è trasferito vicino a voi e vi sta spiando con un cannocchiale. Non va bene, non posso tollerare qualcuno che dà fastidio ai miei cittadini nella mia città. Mando subito due poliziotti per cacciarlo dalla casa e dalla città. Grazie per la segnalazione. Ma grazie a te, sindaco. Ma grazie! Se sei sempre così efficiente, va benissimo, eh. Complimenti. Ora vorrei stringere la mano, però la sindaco ci si intende, giusto, Fere? Assolutamente sì. Facciamo lo stesso lavoro, Fere è sparita. Ma Fere, sei davvero andata via? Io volevo andare a casa a recuperare il medaglione per prendere... Fere, non possiamo permetterci un terzo gatto. Questo è quello che pensi tu. Dai! Questo è quello che pensi tu, Stef. Oh, che noia, che fere, io la sopporto. Allora, io adesso vado in casa e vediamo un pochino. Il figlio è il cugino di Andrea, il prossimo è lei, io glielo dico. Lo sappiamo che è una spia, è palese questa cosa. Quindi stia attento perché ormai siamo potenti e pieni di potere. Sta arrivando maledetta, ma perché di sempre pensare alle cose inutili? Allora, non rompere! Che c'è? Ci sono dei poliziotti davvero di fronte a casa di Andrea. Sono già arrivati? Sono già arrivati. Ma scusa, quando sono passata io non c'erano. Eh, vabbè, due secondi! Bravi, bravi, bravi! Ottimo, Fere. Guardali, guardali che confabula! No, stanno scogitando un piano per portarlo via. Però guardate, guardate la finestra lì. Ecco, bravo, vai lì, vai lì. Guarda, lo vedi il cannocchiale che punta verso casa nostra? Cioè, non va bene questa cosa. Guarda, vedi che sta controllando. Guarda, sta controllando. Certo, sono degli ottimi poliziotti, Stef. Allora, Fere, bandolecciano. Guarda che... Dai! Provaci, se non ti ama, non puoi averlo. Ok, però se mi ama, io prendo tutti i gatti che voglio del mondo. Quella, ragazzi, era la fine del mondo. Nessuno aveva chiuso le porte. È gravissimo quello che è successo. Allora, vediamo se prima di tutto è scappato. No, è ancora qua. Vedi? Perché lui sta aspettando! Vediamo. Lui sta aspettando. Allora, vediamo un pochettino. Che non ci riesca. Non ci... Lo vuoi un medaglione? Vieni! Allora, facciamo la vecchia maniera. Qual è la vecchia maniera? Andiamo. Andiamo a casa. Dai, Fere. Andiamo a casa. Non gli posso dare un nome, ma lo posso amare lo stesso, Stef. Va benissimo. Io non ho parole. Perché ti fa ridere? Allora, Fere. Perché non fa ridere? Ho già scelto il nome. A me fa molto ridere. Vai. Oliver. Sta riciclando il nome che voleva dare a Nino all'inizio. No, Nino lo voleva chiamare Cookie, in realtà. Oliver è il nome del mio futuro gatto color miele. È terribile, Oliver. Fa pensare a un gatto nero, non a un gatto color miele. Non è vero, è un gatto miele. Tutti i gatti miele del mondo si chiamano Oliver, quindi non ropere. L'ho però deciso io. Allora, Fere, mentre tu fai le cose inutili e porti il gatto a casa, io sono tornato alla zona di garage perché ho pensato che dato che abbiamo fatto un po' di soldini potremmo comprare un altro lotto. E stavo guardando, sono rimasti disponibili quello da 10.000. Che no, grazie, sinceramente. Oltre che non ce li abbiamo. No, infatti. Quello da 750, che era dove vendono un sacco di vestiti. Ma sinceramente non ho visto un gran mercato di vestiti, quindi non saprei. Anche se ho notato che c'è un vestito da sposa e quello vale. Eh, sì, penso di sì. Non vale, in effetti, non lo so. E dopodiché invece l'altro disponibile è quello da 1.200, che era quello tutto moderno. C'è il quadro, c'è lo specchio, il bel divano, la macchina da scrivere, le sedie belle belle, il tappeto. Eh, sai che forse mi intriga più questo? Dici? Sono indeciso perché comunque l'abito da sposa a 750 non è male. Potremmo riuscire a venderlo tipo a 3-400. Magari cominciamo noi qualcuno in città a sposarsi e gli rifiliamo il vestito casualmente. Ma poi molto spesso si acquistano gli abiti da sposo, da cerimonia usati. Esatto. Perché comunque nuovi costano tantissimo, non tutti vogliono affrontare quella spesa e quindi non è una cosa così stupida. Bene, secondo me dobbiamo acquistare la zona dei vestiti. Dopo aver visto quel vestito da sposa, secondo me... Allora fammi controllare, sono venuta a giudicare. Ricordati che non puoi sempre entrare. Allora, lo stand degli occhiali comunque qualcosa avverrà. Eh beh, dai. I vari stand, cose apprese... Che comunque anche se sono tutti occhiali cheap di quelli che tipo compri a 10 euro, no? Ce li presenti? Però sono tanti. Sono tanti. Quindi comunque poi tutto lo stand e la struttura avrà un suo valore. Esatto. Dai, secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Ok. Allora preparo 750 da andare a mettere qua. Vediamo un pochino. Prima di tutto deposito anche questi. E depositiamo. Devo essere bravo a non mettere tutto della stessa valuta. Perché altrimenti poi rimango senza una valuta e devo andare a fare i cambi. Allora, se noi prendiamo 10 da 20, sono ovviamente 200. Quindi se noi ne mettiamo 20, siamo ovviamente a 400. Quanto è Raffaele? 750. Quindi siamo a 30 per 20, che fa 600. E con questi andremo a 800. Quindi secondo me possiamo prendere... Allora, mamma mia. Oh, certo che scopo. Così siamo a 750. E mi hai detto che era? 750. Ah no, allora ho sbagliato così. Fatto. Teoricamente fatto. Forza, possiamo prendere quindi? Allora, un attimo. Opla, vai. Ok. Allora, ok. Ci sono anche dei cappellini interessanti, oltre che veramente tantissimi stand. Guarda, Steph, questi giusti starebbero bene per completare il tuo vestito, non pensi? Bellini. Vero? Aspetta, fammi vedere. Sai che non si vedono? Ecco. Ah, perché devo togliere le scarpe. Come sono? Carino. Belli. Guardati. Sì, mi piace, mi piace. Magari vendi i tuoi, capito? Aspetta, guarda, secondo me posso fare anche un'altra miglioria. No, no. No? No. No? No, per niente. Per niente. Però guarda, tipo questo cappellino secondo me si abbina di più, non lo so, ti piace? Viola? O è meglio quello blu? No, forse è di meglio blu, eh. Guarda. No, è meglio quello blu. Allora, basta, non me li devo mettere io questi vestiti, porca miseria. Cioè, siamo qui per fare soldi e fare affari, non per metterci le cose. Allora, aspetta che devo togliere tutto da questo stand. Allora, leviamo questo, leviamo questo. Ok. Perfetto, mi sono messo le scarpe verdi. Ah, carine. Io ho un po' di cose messo in presenza. Togliamo anche le item frame che ce le possiamo mettere a casa. Anche gli stand, secondo me. Sì. No? Sì, 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 assolutamente. Possiamo prenderci tutto, lo sai come la leva. E anche l'abito che sta qui. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ok, hai fatto tutto? Sì, 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 hai preso tutto. L'abbiamo svuotato come sempre. Noi non facciamo complimenti. Perè? Eh. Ma non sono bellissimi adesso? Però poi vendi i tuoi vestiti, Steph. Sì. Cioè, fai cambio. Sì, sì, non diciamo che sono usati e li vendiamo. Esatto, vabbè, ma anche questi penso siano usati. Magari, non so se è qualche negozio che ha fallito, capito? E che quindi si è sbarazzato della merce. O se magari sono semplicemente usati. Anche se secondo me, contando che abbiamo anche tutti gli stand, sa più di negozio che ha fallito, poveri. Può essere. Può essere. Non lo so, dai, non ci interessa. L'importante è che riusciamo a fare degli affari. Andiamo. Io sono molto soddisfatto comunque. Cioè, adesso non abbiamo mai venduto vestiti, quindi non sappiamo bene i prezzi. Non rubato, ma ti sei appropriato dei vestiti che dobbiamo vendere, vabbè. Delle scarpe, dei pantaloni e dei cappellini. Comunque sono soldi risparmiati anche quelli. Magari avrei speso dei soldi per acquistarmi dei nuovi vestiti. Esatto. E invece così li ho risparmiati e sono diventato molto più carino. Se sono più carino, magari vendo meglio. Mmh. Sono d'accordo. Anche queste cose contano, eh. Sono molto, molto importanti. Esatto. Allora, torniamoci a casa. Che c'è? Allora, non gli ho dato il nome perché non mangia pesce questo gatto. Magari vuole qualcos'altro, però ormai fa parte della famiglia. Quindi d'anni in poi siamo con te gli animali. Allora, Steph. Allora, guarda bene questa scena. Non pensi che anche insieme a Nino e Cammin... Steph! È successo qualcosa, vero? Dai, stai sempre facendo un disastro. Appoggiato, guarda. Guarda che bellino Nino sopra la tv. Dai, rimetti a posto la cuccia. Ciao, bellissimo. Ma lui è felice di essere in alto. Dicevo, Steph, non pensi che anche vicino a Nino e Cammin ci stia benissimo un bel micetto color miele? È salito sulla cesta. Guarda come si abbinano. Pensa anche della vita reale, che bell'abbinamento, Steph. Bene, lo so, ma tanto non lo prendiamo ancora, ok? Quindi non rompere le scattole. Allora, io direi di aprire una petizione per buttare Steph fuori di casa e avere un altro gatto. Nella vita reale, però. Esatto. Ok. Fuori, Steph. E questa petizione prende valore se viene firmata dai consolini? Sì. Ho capito. Se sono tutti d'accordo, vattene. Trovate un'altra casa. Steph è pieno di casa nel mondo e da un'altra parte. Capisco, grazie. Grazie mille. Prego. Comunque, noi ci fermiamo così. Nel prossimo episodio proveremo a vendere un po' questi vestiti. Magari andiamo nel negozio di vestiti e del centro commerciale. E vediamo se qualcuno è interessato ad acquistare un po' di roba. Ovviamente continueremo a vendere anche nella nostra bellissima bancarella e magari cercheremo appunto di piazzare il vestito da sposa che secondo me è la cosa più difficile in qualche modo ma sarà sicuramente divertente. Noi ci fermiamo così sotto come altri video iscriviti al canale Cappellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!